Irama, chi è, età, carriera, canzoni, ali, e la fidanzata, amici, foto e Instagram. Sabato è nuova e imperdibile puntata di C'è posta per te, il programma di Maria De Filippi che da anni. Ormai, appassiona migliaia e migliaia di telespettatori. Tra tradimenti, amori finiti. Genitori in cerca di figli, anziani che sperano di trovare l'amore della loro adolescenza. Ma anche colpi di scena e sorprese. Questa sera in studio arriverà Irama, che sarà il regalo per qualcuno dall'altra parte della busta. Irama, all'anagrafe Filippo Maria Fanti, è nato a Carrara il 20 dicembre del 1995. Ma è cresciuto a Monza, dove ha studiato e conseguito il diploma al liceo classico. Il cantautore ha esordito nel panorama discografico quando ha partecipato al 66 gradi Festival di Sanremo nel 2016 con il singolo Cosa resterà nella categoria Nuove Proposte, è risultato fra gli otto vincitori della nona edizione. Poi si è classificato settimo nella graduatoria finale dopo aver perso la sfida contro Irma Almeta. Ma il successo, quello vero, è arrivato solo dopo, Irama, infatti, 2018 quando ha partecipato e vinto la diciassettesima edizione del talent show Amici di Maria De Filippi. Nel 2019 ha partecipato nuovamente a Sanremo con la canzone La Ragazza con il Cuore di Latta. Da lì ha collezionato un successo dopo l'altro. Irama nel 2022 ha partecipato di nuovo a Sanremo con il brano Ovunque Sarai, con il quale si è classificato al quarto posto. Nel 2022, poi, ha pubblicato l'album Il Giorno in cui ho smesso di pensare e il primo luglio ha reso pubblico il singolo Pam 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 Pam. Recentemente, il 22 novembre è uscito il singolo inedito Ali. Tra le sue canzoni più famose ricordiamo. Il cantante ha avuto in passato una storia d'amore con Giulia Delellis, relazione giunta al Capolinea nel 2019. Attualmente Irma è fidanzato con la modella e influencer greca Victoria Stella Doritou. Nel 2019 il cantante ha confermato la storia d'amore con la ragazza, classe 1997. E il loro rapporto procede a gonfie vele. Irma ha un profilo Instagram. Con il suo account è tiramaplumevanto oltre 1,6 milioni di followers. Ogni suo post viene commentato da migliaia di fan e riceve decine di migliaia di like. La costum, poate nu spun minciuni, sunt liber să fiu stăpân pe ce fac și ce spun. Știi, nimic nu mai e la fel, copilăria s-a maturizat sever. S-a lovit până acum de fel, de fel, de oameni, de păreri, anti pur de caracter. Și văd cum unii stau degeaba, frate, sunt mulți, dar văd și alții care luptă încercând să mute munți. Oameni care au ceva de spus, oameni care vor să ajungă tot mai spus. Ai mei, ai mei, ai mei, ai mei, n-au avut haba.